Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Brewmaster Beer Brewing Simulator. Un gioco davvero molto particolare dove noi distilleremo la nostra birra personale partecipando magari anche a concorsi e producendo birre uniche al mondo. Faccio un piccolo disclaimer per cominciare. Non sono esperto di questa materia, anzi non ne so assolutamente nulla. Quindi diciamo che spero mi perdonerete se farò delle cavolate. Quello che faremo in questo gameplay è seguire il tutorial che ho già fatto ma ripeterò con voi e vi mostrerò le varie features di gioco. Si può iniziare in free play, disabilitare il tutorial e andare nella mod. Il gioco è diviso da stagioni e quindi dovremo produrre birre per ogni stagione insomma e vi farò vedere dopo come funziona. Qua abbiamo la nostra casa con la build mode. La build mode ci permetterà di, col tasto, di andare a posizionare varie cose. Non c'è diciamo a quanto visto una sorta di denaro per acquistare le cose ma si usa un altro tipo di valuta legato alle birre che produciamo. Comunque usciamo dalla build mode e andiamo a seguire il tutorial. La casa è questa, la casa in cui potremmo mettere in giro le varie birre prodotte ma tutto quello che noi faremo, vabbè questa è la zona di degustazione qua appoggeremo le botti delle birre che abbiamo prodotto e questo è il fulcro dove passeremo il gioco, l'intero gioco insomma. Non si salta ovviamente perché non serve ad andare in questo gioco graficamente assomiglia un po' a Cooking Simulator. è molto diciamo essenziale come interazione però ve lo faccio vedere perché ha delle chicche veramente particolari. Prima cosa dobbiamo andare a prendere una pentola poi potremmo andare ad aggiornarci e prenderne di altre. In questo caso recuperiamo la pentola, viene messa nel nostro inventario che vedete in basso e la pentola la mettiamo nel lavandino. Col tasto V togliamo il coperchio e accendiamo il lavandino. Vedete che abbiamo con il tasto G l'X-Ray che ci dà un sacco di statistiche dalla temperatura, la gravità, la contaminazione cioè sono tutti parametri fondamentali per chi produce birra. Ovviamente in questo caso ci metteremo una vita a riempire 25 in realtà dobbiamo riempirne 21 quindi premiamo il tasto T e con la rotella andiamo ad accelerare il tempo. Ovviamente se dovessimo esagerare possiamo andare a risuotarla come in questo caso vedete ho esagerato quindi posso andare togliendo il tempo andare a prendere in mano questo e versare col tasto E vedete pian piano con la rotella andare a versare un po' d'acqua in modo da avere 13, 21, sì dai direi che può andare bene anzi siamo precisi andiamo a fare una piccola aggiunta d'acqua in modo da ecco 22, 20 e 98 gli do una pizzicatina in più 21, 05 ok in questo caso andiamo a metterlo sul fuoco e accendiamo col tasto E il fuoco ora dobbiamo recuperare il malto dal frigorifero recuperiamo uno dei due prendo questo non so adesso se mi dice uno di questi va bene facciamo ne recuperiamo due chili quindi il tutorial ci dice due chili ne prendiamo due chili prendiamo e andiamo a posizionarlo all'interno della pentola con la E cioè il pur into è molto bello perché vedete che va a versarlo all'interno molto bello perché vedete che segue proprio la gravità intanto con l'X-Ray continuiamo a vedere tutti i dati del nostro liquido adesso questo è vuoto cliccando sul fregolo mettiamo via vedete che ci sono un sacco di dati che si stanno aggiornando perché l'acqua si sta scaldando pian piano a 11 gradi ed è un aumento ora dobbiamo recuperare questi questi malti ultra pale vienna prendiamo questi grani prendiamo questo ne prendiamo 500 grammi quindi andiamo a scegliere 500 grammi e lo prendiamo ce lo mette l'inventario sotto ora lo mettiamo con il tasto E place e lo mettiamo ora dobbiamo far bollire l'acqua quindi l'acqua bollirà a 100 gradi ovviamente andiamo su T aumentiamo il tempo e aspettiamo che bolla bolla bolle insomma ecco in vedete lì ci da 94 95 la seconda voce sotto liquid si sta anche dissolvendo perché sta bollendo se sta evaporando insomma quindi aspettiamo che bolla ok adesso dobbiamo andare a prendere una delle qua dobbiamo prendere questi fai qui che servono diciamo per creare l'amarognolo 20 grammi di uno di questo marauder 20 grammi e dobbiamo prenderne 50 di quest'altro vedete io però effettivamente non essendo del ramo non so cosa sto effettivamente facendo ma voi che siete esperti sicuramente lo saprete comunque vado a posizionarli entrambi continua a bollire per 10 minuti e poi spegniamo tutto quindi in questo caso aspettiamo una decina di minuti adesso aspettate di esattivo questo sono le 12.55 alle 13.05 spegniamo il fuoco direi che può andare scusate ma devo uscire dal tempo e spegno rimuovo le bag che metto via insomma qualsiasi cosa premiate insomma su qualsiasi frigo o credenza ve li mette via ora aspettiamo fino a quando scende è vitale affreddare prima di aggiungere il lievito se no muore ovviamente quindi dobbiamo aspettare lo aspettiamo fino a che scenda 21 gradi attivo di nuovo questo e vediamo intanto vedete che sta evaporando pochissimo adesso aspettiamo abbiamo aumentato 1000 per il tempo quindi vediamo perdiamo 0.12 di gradi al minuto ok sta scendendo a 21 mettiamo lievito dai ci siamo quasi 21 o più basso insomma quindi non caldissimo stesso concetto della pizza lievito poi muore se è troppo caldo ok siamo sotto i 21 a brevissimo perfetto ci siamo prendo il lievito dalla credenza che è qui allora prima di tutto no prendiamo questo che è il fermentatore apriamo e svuotiamo all'interno il contenuto quindi prendiamo versa all'interno la rotellina del mouse andiamo a ruotare versiamo all'interno ho regalato un kit del genere a mio padre quindi la produce anche lui però insomma non mi sono mai informato ok ora è giunto il momento di prendere il lievito il lievito è qui ne prendiamo uno non mi dice quale prendiamo il british no mi dice prendere questo quindi prendiamo questo si mi dice di scegliere questo va bene va bene dai lo prendiamo e lo versiamo all'interno dobbiamo versarlo tutto ops qui pur into e lo versiamo tutto sono 150 grammi e versiamo il lievito tanto vedete le statistiche che continuano statistiche perché vanno dalla gravità alle proteine contaminazione i zuccheri fermentati la marognolo insomma tutti questi dati qui ora ora chiudiamo ok ora viene una delle parti più importanti facciamo passare 15 giorni quindi la birra sta qui a temperatura ambiente per una quindicina di giorni dopo di che la procedura continua perché ora prendiamo altre cose prendiamo questi ultra pale viennacrist no zucchero zucchero bisogna aggiungere lo zucchero 150 zucchero quindi apriamo e ci aggiungiamo pure into 150 questo ricorda molto la precisione che vedete ricorda molto il cooking simulator vai vai 126 155 dai va bene e tutto questo in base ai dati che mettete poi potete sperimentare e crearvi le vostre birra cambia la colorazione il gusto insomma tutti quei dati che sono importanti adesso io scusate vado a chiudere prendiamo una una botte e un tubo e facciamo il travaso il travaso questo lo so perché è successo se non lo fate in modo così con questo rubinetto c'è il rischio appunto che passi tutto il deposito il sedimento sul fondo e quindi la birra diventi torbida ok iniziamo apriamo il il rubinetto e andiamo a travasare tutto all'interno dobbiamo metterli ovviamente come ci dice su una superficie più bassa adesso acceleriamo un pochino il tempo fino a quando finisce ok si è riempito del tutto ok ora chiudi scusate tolgo il tubo tolgo il tempo insomma prima detach tube ok chiudo con V e ora lasciamo asecuiamoci appunto chiudendolo di non perdere la CO2 quindi il gasato insomma che poi ci dà lo zucchero e aspettiamo 20 giorni quindi in totale siamo oltre 35-36 giorni quindi andiamo 20 giorni precisi perfetto vai aspettiamo questi 20 giorni e siamo pronti ora taste qua ci ho messo un po' a capire come funziona si prende la birra la portiamo di qua nella sala di degustazione e la mettiamo qui quindi taste e vediamo il risultato pensate che il primo tutorial che ho fatto ho fatto scelte diverse nel senso ho usato l'opposto di quello che ho usato adesso come ingredienti ed è venuta una birra color ambra questa è scurissima e vedete che ci dà il colore la carboni quanto è gasata insomma se è abbastanza piatta o piuttosto gasatissima questi non so cosa siano però ho prodotto una birra che poi posso andare a classificare se malti e sweet oppure più amaroniola insomma qui è abbastanza dolce piena di malto insomma questa è la statistica anche in termini di fumosità insomma profumo di fumo non lo so insomma poi chi di voi è esperto mi saprà dire ABV la misura della forza alcolica 4 gradi e 75 buono IBUS sono l'amaronio insomma l'amarezza che amarezza corpo medio contaminazione 5,5 che io sappia non è bellissimo come risultato gravità originale insomma va bene e qui abbiamo fatto una birra che si ispira al 64% a un American una 60% una British e così via questi sono i dati finali una volta visti questi dati possiamo andare a dargli un nome quindi allora questa è la Indie First la Indie First lo stile sono d'accordo American Pot bottiglia così glass il bicchiere come lo vogliamo come si beve si beve mi piace molto questo bicchiere e qua possiamo editare la nostra ma pensate il banner il bordo del banner il label template bellissimo mi piace molto questa la Indie First ma no vediamo qualcosa che bella montanara così mi piace possiamo scegliere il bordo possiamo scegliere tutto ma non non lo so vabbè questa è la nostra prima birra che abbiamo prodotto possiamo metterla non qui sicuramente perché qua ci metteremo le botti questa è la botte dell'Indie First che abbiamo prodotto le bottiglie non so dove la mettiamo ma comunque vedete bellissima bellissima la mettiamo qua adesso il gioco ci fa andare avanti perché passiamo la stagione e con la stagione che passiamo ci risetta il gioco e ora ci dice guarda c'è questo giornale qui di birra dove parlano delle birre insomma dove ti danno delle puoi trovare anche delle ricette mi pare e puoi tracciare un lavoro e quindi fare un lavoro tracciare un lavoro da fare per la la si ho senso la ricetta sp abbiamo anche gli articoli adesso io non so come fare a uscire in realtà vedete qua ci sono le ricette e qua praticamente ci sta spiegando la birra che abbiamo scelto di fare ci dà la ricetta con tutta la guida insomma che pinniamo all'interno dello schermo e ci indica abbiamo appunto gli articoli che parlano del varie cose ci leggiamo la rivista e leggiamo anche i lavori che ci commissionano e ci pagano appunto con questo beer tokens che sono quelli che usiamo anche per potenziare il nostro inventario e qua vedete che abbiamo la possibilità di prendere le varie pentole e le evoluzioni delle varie cose qua non ci non ci lascia fare niente ok no ci dice quello che possiamo andare a comprare per la ricetta che stiamo facendo qua possiamo andare a comprare ulteriori ingredienti ulteriori malti ulteriori lieviti al momento si altri malti e gli estratti di frutta per appunto creare una birra fruttata abbiamo altri arredamenti che non servono a nulla se non per magari non so vogliamo comprare ho comprato con dei token una mensola vado nella modalità build e dovrei avere preso una mensola 0 su 1 0 su 1 0 su 1 ne ho comprata una ma non me l'ha messa la l'ha messa da qualche parte eccola lì voglio metterci sopra la birra che ho fatto la volta scorsa in modo che che poi me la pick up come la prende è perché sono in build mode ok adesso si me la metto qua ok la birra sarà lì per sempre abbiamo una delivery box ah è arrivata adesso mannaggia vabbè si vabbè è la cassa qua comunque quello che dobbiamo fare ovviamente dovete essere appassionati di distillazione di birra insomma come si come si dice perché avete i lavori da fare ogni stagione fino a se stessa nel senso che quando producete la birra passate la producete vi dà l'esito passate alla stagione successiva e la stagione successiva significa arrivo di una nuova rivista questo è quanto io ho preso dal gioco e anche grazie a ebook che mi ha un pochino fatto vedere quando io ancora il gioco non lo possedevo come funziona insomma com'è allora per un appassionato è senz'altro utile è bello si può sbagliare perché l'errore c'è potete sbagliare una misura potete sbagliare un ingrediente potete sbagliare una dose insomma non c'è granché come interazione nel senso che cliccate qui sbloccate tirate fuori appoggiate però non è che ci sia anche a livello di interazione molto schematica come cosa e mi sarebbe piaciuto magari una gestione maggiore di quanto riguarda l'inventario un po' alla cooking simulator dove fisicamente prendo l'ingrediente fisicamente me lo compro me lo appoggio in dispensa ci avrei apprezzato questa cosa ma è una cosa da un po' da fissati da maniaci da ossessivi compulsivi quindi non valutatela questa mia considerazione però se siete dei malati come me ne prenderete sicuramente atto allora fatemi sapere che cosa ne pensate di questo di questo titolo che è davvero molto molto simpatico è un titolo che è uscito il 29 di settembre non è nelle access quindi è già definitivo ed è sviluppato dell'Auroc Digital che mi ha già comunque aiutato con altri con altri titoli il prezzo è 17,99 18 euro quindi li vale beh se siete degli appassionati il gioco si è fatto senz'altro bene le birre sono rese a livello di grafica veramente molto bene anche in base agli ingredienti che avete fatto e calcolando tutte le statistiche che uscivano prima della produzione della gravità insomma dell'amaroniolo insomma l'amarezza le temperature dell'acqua l'ebollizione insomma è fatto bene senz'altro a livello chimico è fatto bene fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao